nativi digitali beh sì i nostri ragazzi fanno parte di quella generazione che almeno in teoria dovrebbe avere una certa dimestichezza con gli strumenti digitali e con tutto ciò che attiene la rivoluzione digitale che in realtà è già partita da oltre 15 anni i dati però ci dicono una cosa attenzione in realtà dietro questa apparente dimestichezza si nascondono tante tantissime insidie sono estremamente vulnerabili gli studenti i ragazzi così come poi i boomer e allora come invertire questa tendenza come approcciare in maniera diversa le nuove tecnologie al metodo di insegnamento a digitale italia oggi parliamo di competenze digitali di educazione e cultura digitale lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti che sono la professoressa cristiana pivetta ve la presento subito un ben ritornato alla professoressa pivetta dell'istituto tecnico di carbonia nonché docente del progetto reeduco e poi diamo anche il benvenuto a fulvio oscar benussi che è stato formatore nonché socio idr ha seguito da vicino il progetto reeduco allora professoressa pivetta dicevamo del progetto che ha avuto come scopo quello di cambiare la metodologia di approccio alle competenze digitali all'interno del mondo della scuola il i suoi alunni lo abbiamo visto anche nelle corse puntate di digitale italia hanno partecipato a questo progetto io prima li ho chiamati i ragazzi del digitale più dei nativi digitali che forse è un termine ormai che non si usa più ma qual è stato il prima e il dopo rispetto all'approccio alle tecnologie digitali da parte dei suoi studenti grazie valentina piacere partecipare di nuovo a questa trasmissione allora il progetto reeduco è stato importantissimo per i miei studenti perché quando abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto partendo da una prima ricognizione di quelle che erano le competenze digitali abbiamo fatto in classe tutti insieme a me piace proprio co lavorare quindi quel co working con i miei studenti quindi abbiamo poi condiviso tutti i risultati si sono resi subito conto che in realtà eh quella che la dimestichezza dell'uso delle nuove tecnologie sia per il per il loro lavoro scolastico e e quindi anche per la comunicazione la collaborazione con altre con altre persone con altri studenti di tutto il mondo in realtà non erano delle competenze acquisite oppure acquisite eh proprio in minima parte in maniera sufficiente perché eh in realtà i miei i miei studenti si sono resi subito conto che eh quelli che sono gli strumenti digitali loro li sanno utilizzare in minima parte mi spiego meglio li utilizzano per fare gaming eh per utilizzare le chat di messaggistica eh per cercare ad esempio brani musicali però al di là di quello non eh non non avevano questa comprensione eh profonda almeno in buona parte se non tutti del fatto che la competenza digitale è una competenza che si acquisisce all'interno di un di un mondo ma non è eh qualcosa che è legato semplicemente all'utilizzare uno strumento e piegarlo ai propri ai propri fini ma in realtà è vivere una cittadinanza digitale all'interno eh di internet che ormai è per loro un mondo reale a tutti gli effetti quindi il fatto eh ad esempio nella creazione dei contenuti è emerso subito che non avevano cognizione del copyright per loro su internet si può utilizzare qualsiasi cosa perché sta eh sui motori di ricerca e quindi è libero quindi anche diciamo ripercorrere insieme e quindi capire anche le tipologie di licenze ad esempio questo eh è stato un un aspetto importante oggi ad esempio quando vanno a predisporre dei percorsi digitali eh stanno attenti mi inseriscono anche i link per verificare insieme quando hanno qualche dubbio eh se è un'immagine se è un contenuto si può utilizzare quindi anche questa è una consapevolezza è una coscienza di come esercitare la propria cittadinanza nel digitale in maniera in maniera corretta poi ad esempio un altro aspetto l'identità digitale ecco loro non avevano nessuna percezione che quando sono nel web lasciano delle tracce delle orme e queste orme rimangono per sempre quindi va anche come dire esercitata in maniera corretta anche la parola netiquette per loro ma che cos'è professoressa non l'abbiamo mai sentita questa parola quindi anche costruire un decalogo che poi magari in maniera era percettibile sapevano alcune regole che vanno seguite nel web però in realtà non c'era una consapevolezza condivisa ma anche a livello adesso faccio questo esempio no eh ma neanche a casa sapevamo che cosa fosse la netiquette non lo sapevano neanche i nostri genitori glielo abbiamo spiegato noi ecco quindi c'è stato anche un passaggio un approccio completamente diverso eh Fulvio la professoressa eh Pivetta faceva riferimento no al percorso che è stato ehm eh effettuato con i ragazzi con il supporto eh anche da parte dei formatori eh alcuni dei quali eh di AIDR che ricordiamo è partner del progetto Reduco ehm c'è stato anche il percorso di educazione civica proprio per guidare eh i ragazzi eh nei meandri della nuova identità eh digitale la professoressa Pivetta faceva tantissimi esempi io vorrei che tu eh raccontassi quella che è stata la tua esperienza con gli studenti eh sì io ho avuto sia l'esperienza prima nella parte iniziale del progetto Reduco ma qui parlerò in particolare della percorso di formazione che ho fatto presso il liceo Carlo Tenca di Milano di educazione civica digitale ehm devo subito confermare quello che diceva la professoressa Pivetta eh rispetto alla alla web eh reputation non avevano alcun concetto e peraltro devo dire non hanno nemmeno molto rispetto al questionario che io ho proposto alla fine non hanno nemmeno molto apprezzato il la la tematica eh mentre di più hanno eh sono stati interessati e hanno approfondito il discorso del furto di identità eh anche questo fatto con esempi e eh probabilmente anche con eh vissuti di furto di identità magari su Facebook o su altri social eh loro sicuramente sono stati eh particolarmente interessati poi alla parte relativa a LinkedIn eh di cui conoscevano l'esistenza in in dieci ma poi sono stati in quindici ben quindici a dire eh che hanno molto apprezzato l'approfondimento che è stato fatto eh faccio notare che questo eh lavoro è stato fatto in una quarta in una quinta superiore e aggiungo anche che è stato fatto in collaborazione cioè la lezione veniva fatta da remoto da me ma proprio per valorizzare anche la professionalità della della docente presente eh ci alternavamo e per cui alcuni segmenti sono stati in realtà trattati da lei dalla collega. Ehm eh abbiamo mh sentito eh Fulvio un prima e un dopo no? Eh nel nell'approccio alle tecnologie digitali eh tu parlavi prima del furto di identità quale altre tematiche sono state affrontate insieme ai ragazzi e qual è stato il loro eh percorso all'interno? Allora le tematiche affrontate eh erano legate al FOIA cioè Freedom of Information Acts in quanto l'aggancio eh per proporre la educazione digitale è stato un in una logica di strategic storytelling cioè è stato agganciato a una eh storia professionale personale cioè io ho fatto un'attività di inchiesta giornalistica e quindi ho agganciato a questa eh esperienza la diciamo narrazione la storia che veniva eh a intrecciarsi con gli strumenti digitali per eh essere cittadini digitali quindi il FOIA era lo strumento per ottenere le informazioni eh sicuramente queste informazioni venivano poi ricevute e ottenute tramite invio di PEC che loro non avevano ne sapevano abbastanza poco e c'è stata ovviamente ho fatto anche una dimostrazione d'uso e anche la firma digitale di cui eh ho fatto una dimostrazione d'uso eh per far comprendere loro la differenza peraltro tra strumenti eh gli ho mh proposto di ragionare la differenza tra un messaggio mandato con una eh con una eh in chat in su WhatsApp rispetto a una raccomandata che era il caso della storia professionale cioè una raccomandata mandata a eh degli enti pubblici eh e che quindi aveva un livello di formalizzazione ben diverso quindi la pertinenza di eh messaggi da una parte o dall'altra altro argomento molto forte molto eh che li ha trovati molto interessati era eh LinkedIn come dicevo prima eh di cui abbiamo ho proposto la alcune delle sezioni fondamentali di LinkedIn le ho un po' spiegate e poi loro hanno eh come diciamo test provato a scrivere un loro eh profilo professionale che ovviamente non poteva pur essendo ragazzi di quarta e quinta non poteva essere di lavoro e quindi la tematica era proporsi per esempio per fare parte di del di una del consiglio d'istituto o della eh consulta degli studenti oppure essere un un intrattenitore di ragazzi magari anche all'oratorio per dire oppure lezioni private oppure eh eh sostegno. Julio eh tu hai avuto esperienza con ragazzi del penultimo e dell'ultimo anno di scuola superiore facevi riferimento al LinkedIn che è il il social che apre al al mondo del lavoro e mette in contatto eh le persone. I i ragazzi che eh in realtà già di loro stanno due ore sui social sono altri tv social. Come hanno ehm eh reagito no? Alla al tuo approccio con questo nuovo social? Dunque diciamo dal punto di vista del dell'apprezzamento di della della modalità eh l'esito perché io alla fine di di ogni intervento formativo che faccio eh faccio sempre dei questionari ecco in dieci dicevano di conoscerlo già prima del corso e in quindici hanno detto abbiamo approfondito molto e siamo quindi stati soddisfatti di quello che abbiamo scoperto. L'altra parte che io trovo molto interessante e ve la segnalo è che loro hanno anche molto apprezzato eh la eh spiegazione ehm che ho fatto sul curriculum vita e collegato al discorso LinkedIn e anche quello relativo alla lettera di accompagnamento che loro non consideravano. Tra l'altro questo l'ho fatto anche utilizzando dei ehm degli ispezioni di di video per far loro comprendere quali possono essere le contraddizioni e difficoltà. In particolare ho preso un pezzettino di del film Santa Maradona dove eh Santa Maradona dove eh si vede la persona che manda una lettera si dice disponibile a trasferirsi in ogni luogo poi dimentica la lettera con cui si è candidato e quando il datore di lavoro gli dice bene ti assumo ti mando loro erano a Roma ti mando a Torino lui dice no ma veramente ecco quindi li ho messi un po' in in attenzione rispetto a queste cose che loro non controllavano. Rispetto a LinkedIn abbiamo parlato molto anche delle delle come dire delle eh della certificazione del fatto che loro hanno un passato un pregresso e delle loro competenze facendo vedere anche addirittura una una lettera che eh il maestro Mascagni scrisse eh su carta intestata di del valore di cinque lire per eh per parlare bene di un musicista e quindi questo è il racconto a proposito di eh eh competenze eh competenze cioè il progetto Reduco si chiude nel duemilaventitré che è stato proclamato dall'Europa anno europeo delle competenze questo perché per invogliare gli stati membri a puntare sulle competenze su processi che siano di formazione continua e che coinvolgano tutti e che vedano eh le priorità soprattutto a quelle che sono le competenze eh digitali. Eh professoressa eh Pivetta eh tra il prima e il dopo del progetto Reduco che ora è alle battute finali qual è stato il livello di consapevolezza delle competenze digitali da parte dei suoi ragazzi. Allora eh i miei studenti hanno compreso che questa che poi la le competenze digitali fanno parte no? Delle competenze chiave quanto sia fondamentale eh per anche in prospettiva del loro lavoro come intrecciare quindi quelle quelle che sono per esempio la competenza multiculturale no? Quindi multilinguistica anche. Ehm come siano importanti queste competenze proprio non soltanto per comunicare e collaborare quindi in maniera come possiamo dire eh causale ma invece come queste competenze insieme alle competenze digitali eh si piegano a quelli che sono poi il loro desiderata, il loro percorso formativo come esercitare da una parte la propria cittadinanza digitale che spesso appunto eh viene come dire eh non viene sottovalutata e allo stesso tempo come tra le competenze digitali la possibilità è di risolvere i problemi quindi come questo risolvere i problemi significa crearsi delle opportunità di lavoro quindi intrecciarla a quelle che sono le competenze legate all'imprenditoria e in questo modo eh come dire ci si procaccia il proprio lavoro ma sicura anche quello che è il benessere sociale, il benessere dell'ambiente, il benessere della comunità. Quindi capire come in realtà nel nostro piccolo in Sardegna facciamo parte di una comunità globale. Ecco questo eh per me eh e per i miei studenti è stato diciamo il valore più importante ma anche attraverso questo progetto e quindi lo sviluppo, l'attivazione, il potenziamento delle competenze digitali come la scuola in realtà non sia eh come dire esterna cioè una scuola che è completamente slegata da quella che è la realtà degli studenti e quindi come la scuola insieme al progetto Reduco abbia creato delle delle piste e la consapevolezza che ogni ogni studente nel proprio piccolo lavorando quindi in un team possa possa creare quella che è diciamo la pista per un suo lavoro futuro. Quindi saper leggere diciamo il presente e anche anticipare il futuro attraverso le competenze digitali. Penso che questo sia sia il risultato diciamo eh che non ci aspettavamo e che invece i miei studenti hanno raggiunto e soprattutto intrecciato anche ad un lavoro che è stato fatto all'interno del Consiglio di classe e che ha poi disseminato all'interno del nostro istituto quindi fra tutte le nostre eh classi ehm quindi c'è stata è nata questa consapevolezza di poter lavorare in un certo modo intrecciando quelle che sono le competenze disciplinari con quelle chiave e poi anche mettendo eh il digitale al centro il il fulcro no del progetto Reduco è stato eh poi questo far capire che le competenze digitali non sono un insieme di nozioni tecniche ma possono essere uno strumento una chiave per aprirci al mondo che stiamo già vivendo non che vivremo domani. Grazie mille ai nostri ospiti grazie professoressa Pivetta grazie eh Oscar Benussi e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie infinite. Arrivederci a tutti. Grazie.